Ciao a tutti amici di Like Radio Music & Passion, ci troviamo qui nel grande hotel di Salso Maggiore per il premio Nilla Pizzi, la regina della musica italiana. Qui con me ho Andrea Biandrino, l'inviato di Like Radio Music & Passion, ciao Andrea. Ciao Martina, io introdurrei subito chi è l'idiatore, il patron, nonché il proprietario del grande hotel. Allora sì, perché non vediamo l'ora di presentare subito che abbiamo qui. Lei è? Signor Negri. Signor Negri. Io devo ringraziare Lele perché è stato lui onestamente quello che ha organizzato tutto, devo dire solamente grazie, se viene una bella festa sono felicissimo, passo la parola a Lele che è molto più bravo. Noi volevamo sapere qualcosa, insomma, grande hotel, beh grande hotel storico diciamo e poi ricordiamo Miss Italia, sono tante manifestazioni. Adesso abbiamo il premio Nilla Pizzi che comunque è una grande manifestazione anche questa, però insomma questo hotel ha ospitato veramente grandi eventi. Questo albergo è stato quello, era l'albergo delle Miss Italia, infatti giù all'ingresso abbiamo tutte le foto delle varie edizioni e tutto quanto, perciò questo è sempre stato l'albergo delle Miss Italia. Noi sei anni fa l'abbiamo preso, l'abbiamo ristrutturato completamente, totalmente rinnovato, non c'è rimasto niente, le mura che abbiamo solamente solidificate e coibentate. E c'è una spa bellissima, vero Lele? Meravigliosa anche perché qua a Salso Maggiore, sai, è salso, ci sono le terme, le vere terme che ancora oggi sono in grande funzione, gente ne arriva tutti i giorni e questo albergo diciamo che è il più bello albergo di Salso Maggiore e che il signor Negri ha voluto rimettere a nuovo con le sue tasche. Non è stato aiutato da nessuno, ha detto voglio un albergo meraviglioso, lui l'ha fatto, mi ha chiamato, gli ho fatto l'inaugurazione e poi mi ha detto voglio fare delle cose carine che richiamino Salso Maggiore e che arrivino delle stupende come il mio albergo. Ed eccoci qua. Ed eccoci qua, no? Cominciamo. Cominciamo, patron del premio Nilla Pizzi. Nilla Pizzi è stata la prima cantante che ha visto il Festival di Sanremo. Nel 1951 non c'era ancora la Rai, si faceva in Rai e Nilla ha vinto ed è arrivata primo posto, secondo e terzo. Nilla era la vera regina della canzone italiana, lei ha girato il mondo e ha conosciuto veramente tantissima gente. Io l'ho gestita fino poi quando lei ha smesso di cantare, che aveva 94 anni, dopo due anni ci ha lasciato e ha lasciato un grande vuoto nella musica italiana. Lei era una vera regina, girava il mondo e dove andava faceva i strapieni dappertutto, dall'Australia, al Canada, all'America. Era una grande donna nella musica ma anche nella vita. Io che l'ho conosciuta molto bene e devo solo che ringraziarla e prima di andarsene mi ha detto Lei le porta in giro il mio nome in tutto il mondo come ho fatto io e te ne sarò grata anche da lassù. Esatto, penso infatti che comunque se ci vedrà, presumo che sarà molto orgogliosa di questo premio che tu stai producendo di fatto. Diciamo che questo premio gli va in onore a lei perché è veramente una che ha insegnato a tanti giovani come si fa a cantare perché magari ci trovavamo a casa mia o in giro per le serate e lei gli spiegava. Era una grande maestra in tutto. Lei è una professionista perché prima di andare a lavorare si preparava, andava, faceva il suo soundcheck, mangiava perché gli piaceva mangiare e poi ci facevano certi che era un usignolo. Negli ultimi anni lei aveva avuto un piccolo ictus e faceva fatica a parlare, io l'ho aiutata molto con un medico. Partivamo a volte in macchina, non parlava bene però cantava benissimo e in macchina mi cantava tutte le sue canzoni e quelle che doveva fare durante la serata. Poi nel 94 si è fermata perché non stava bene ma devo dire che mi ha insegnato molto. Cara Martina, vedi la fortuna, lui ha visto donne bellissime e Lele Mora invece ha visto degli artisti, beh anche lui ha visto donne bellissime però anche degli artisti che cantavano per lui, insomma. Non è per tutti, sinceramente, vero Lele? Devo dirti che ho anche visto, ho avuto la fortuna di vedere due papi in una volta solo. Quello sì, quello anche noi. Tu li hai visti da lontano, io invece li ho visti da vicino. Da vicino. Allora poi abbiamo... Cerchiamo di vederne tre tra poco, vedrai, non mi sbaglio. Dici che ne vediamo tre. È uno scoop, è una bomba, è questa. Abbiamo con noi il direttore artistico Vin Camporeale, se ci spieghi un po' come si svolgerà questo premio Nilla Pizza e soprattutto i vincitori cosa vinceranno? Ecco, il premio che ci sarà? Allora, innanzitutto diciamo che io ho iniziato a suonare a sei anni e mia nonna mi chiedeva l'ango del mare di Nilla Pizzi. Quindi quando abbiamo parlato con Lele di fare questo premio per me è stata un'emozione perché mi ha fatto venire in mente mia nonna. Quindi è stata una cosa bella che stiamo portando avanti. I premi, ci saranno dei bei premi. Adesso fino a metà maggio, avanti qui al Grand Hotel Salsomaggiore. Poi ci sposteremo al Teatro Ciac dove faremo semifinale. Finale il premio comunque è bello. Contratto discografico, singolo, video eccetera eccetera. Quindi ci aspettiamo grandi cose da questo premio. Quante tappe sono esattamente? Abbiamo tante perché abbiamo tantissimi iscritti. Quindi un po' alla volta li ascolteremo tutti. Quindi sono tantissimi ragazzi che si esibiranno su questo palco. Questa sera sono circa 23-24. Quindi di volta in volta, secondo me, massimo 25 perché poi è difficile ascoltarli tutti. Ma hai già sentito qualche prova? Noi siamo un po' curiosi. Abbiamo fatto il soundcheck. Devo dire che sono veramente tutti bravi e preparati. e si vede che studiano. Questa è una cosa molto importante per i giovani d'oggi che devono studiare. Quindi sarà una serata veramente molto, molto difficile per la giuria, secondo me. Secondo te, Biandrino? Direi che sentendoli questo pomeriggio, devo dire che è un livello qualitativo molto. Invitiamo tutti comunque a iscrivervi e a seguire sui social Premio Nilla Pizzi. Facebook, c'è anche un sito dedicato. Io direi che abbiamo quasi terminato perché il premio deve iniziare. Vuole terminare con Lele perché so che nelle puntate del Ciac, che poi andranno in onda anche su un'importante trasmissione televisiva, tu porterai degli ospiti veramente di grande pregio. Ci puoi fare qualche anticipazione? Beh, alcuni nomi li abbiamo già messi sul cartellone, ma poi ce ne saranno degli altri. Vincenzo non lo sa ancora, ma io venendo qua, tornando qua a Salso Maggiore, ho detto che il premio deve, anche se avremo tantissima gente, tantissimi iscritti, ma se ospitava nel Palazzo Grande tante ragazze che concorrevano, perché non deve ospitarci anche noi col nostro premio? Allora, con Enzo non gliel'ho ancora detto, ma che ho parlato col signor Negri, credo che la finalissima e tutto il concorso avverrà direttamente a Salso Maggiore. Beh, allora, questo veramente è un grande scoop. Allora, noi lasciamo spazio alla musica, rimanete collegati col premio, seguite le varie tappe, iscrivetevi e poi venite a vedere questa bellissima location. Grazie, alla prossima. E rieccoci amici di Lecchery, ed io sono qui con Eliana, una ragazza giovanissima, ma con una grandissima voce. Ciao Eliana, allora, come... Ciao Martina, grazie mille. Come ti senti a partecipare a questa gara, insomma? Beh, assolutamente è un onore, un premio di Nilla Pizzi, e comunque è una bellissima esperienza, in più ci sono degli elementi importanti della musica italiana, e quindi veramente è un onore, assolutamente. Hai un po' di paura, un po' di ansia? Beh, quello sempre, comunque esibirsi davanti a un pubblico, in più una giuria così importante, è pur sempre una responsabilità, quindi speriamo di fare bene, insomma. Allora, io non vedo l'ora di vederti comunque sul palco, perché so che tu hai una voce veramente meravigliosa, quindi mi raccomando, tanto sarà con noi in studio e in radio, quindi seguiteci sempre. Ma che canzone, possiamo sapere che canzone hai portato oggi da far ascoltare? Assolutamente, ho portato Listen, di Beyoncé. Quindi già è una canzone molto difficile, vero? Sì, diciamo che ho scelto questa canzone non solo perché Beyoncé è la mia musa ispiratrice, ma anche perché è una canzone che fa risaltare comunque quello che sono, insomma, non solo lo stile, ma anche la mia anima, quindi spero di fare bene, ecco. E allora ci fai un piccolo anteprima? Assolutamente. Listen to the song here in my heart Bravissimo, complimenti, allora noi vi lasciamo perché adesso andiamo in giro a trovare altri concorrenti, quindi vi salutiamo, un saluto anche da parte di Eliana. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. 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 Grazie a tutti.